ma perchè non la puoi mettermi? no, non la puoi metterci ragione a 5 minuti però non fanno 1 minuto, niente perchè? perchè la cacca per la roba è io padrone qua ma la metti a 2 minuti la metti a me, la metti perchè io a casa c'è chiesto si capisce che la macchina la pappa ti ammade i vicini se la metti? ma no, un parete di 10 avvocati nella casa mia io faccio i colpi della roba perchè la cacca per la roba io mi giuro un po' la palla va buona la metti a me ma non lo metti non mi è lecito posteggiare emoticamente già non le concedo autorizzazione ma un terzo di quarto d'ora neppure un sessantesimo d'ora, già niente per qualche, poichè padroneggio la totalità di tale esclusiva location la ripongo per soli 120 secondi non le fornisco nulla osta qui io devo transitar con bicicli e quadricicli gommati allerterebbe le autorità qualora ponessi parcheggiatura più che ovvio mio affezionato sono seti due quintetti d'avvocati in tal maggiore mi è sufficiente un telefonico gesto per far accorrere il comandante delle forze poliziesche allora rinuncio a tale proposito ma la sosti sono un amabile giullare ciao